la verità è che sono meno rosa di quanto avessi pensato sono rosati un po' come il popelo erano più rose in Senegal ma ovviamente dipende dalla dieta quello che so che spettacolo c'è il riflesso di fenicoterie questo è spettacolare sta non sciurre le forze ma stai guarda ci sta una cosa che dove sta dove sta eccola eccola qua una paparella ma ritorniamo ai fenicotteri sono tutti in gruppo difficile fare le riprese con lo zoom per 15 e al per 3 è perfetto questo è per 5 e bene o male mi regge la mano insomma per 15 era un po' complicato in questa splendida cornice che è la laguna e il lago guardateli quanti uccelli mazzicca cero mazzicca cero